Sindaco, è un anereto attonita e oserei dire anche sconvolta per tutto quello che è successo, un omicidio che forse nessuno si sarebbe mai aspettato. Un delitto gravissimo, un momento di commozione corale, siamo scossi come comunità. Io esprimo vicinanza soprattutto alla bambina, che è un'ulteriore vittima, resta senza una madre, ma in me anche senza un padre. A nome dell'amministrazione esprimiamo anche forte condanna, questo è un gesto ignobile. Noi l'anno scorso avevamo avviato un percorso di sensibilizzazione con l'installazione della panchina rossa in Piazza Cavour. Il femminicidio credo che sia una violenza particolare sulle donne, una mancanza di cultura. Quindi ribadiamo la nostra ferma condanna. Cercheremo anche nel prossimo futuro di sensibilizzare ancora di più le istituzioni, il mondo scolastico, le famiglie, la comunità. Certo, è un fenomeno molto più vicino di quando noi potessimo pensare. In Val Vibrata, in provincia di Teramo, ci sono stati precedenti episodi. Esther Pasqualoni, la dottoressa, uccisa proprio davanti all'ospedale. E oggi ce l'abbiamo in casa. E con lei ha annunciato, nella giorno dei fuori valli, il lutto di cittadino per la rete. Sì, io ritengo che sia un atto dovuto. Adesso siamo in attesa delle determinazioni da parte della Procura rispetto al nulla osta per la celebrazione delle seguie. Non sappiamo se il funerale verrà fatto qui o in Romania. Abbiamo delle notizie molto, molto anche riservate, come è giusto che sia in questo momento, anche rispetto al destino della bambina. Ci sono in queste ore dei contatti tra il servizio sociale, l'assistente sociale e il tribunale dei minori dell'Aquila. Attendiamo fiduciosi affinché si trovi la soluzione migliore per la bambina. Io volevo solo sottolineare una cosa. Purtroppo non c'è la cultura del fallimento. E non solo in Italia. Adesso dobbiamo essere tutti bravi, tutti belli, tutti perfetti. Io credo che le istituzioni soprattutto debbano ripristinare la vita reale, anche una cultura del fallimento. Si può fallire, il matrimonio può finire, un'azienda può chiudere, un lavoro si può perdere. Però bisogna sempre restare sereni, equilibrati, accettare e soprattutto guardare al futuro con speranza. Perché questo è quello che si deve fare, non altro. Io non posso che stringermi al dolore della famiglia, dei congiunti ed essere vicino con tutto quello che potremmo fare come istituzioni alla bambina. Che purtroppo, come ho detto, è sicuramente un'ulteriore vittima. Che purtroppo, come ho detto, è sicuramente un'ulteriore vittima. Grazie. Grazie. Grazie.